Ottica diversa. La voce interiore attraverso Roberta S. Sabaudia. Guide. Prova a guardare le situazioni con l'ottica diversa. Ricordati di trovare l'aspetto bello che molto spesso è più lampante di quello brutto che tu invece vedi per primo. Allora di fronte a una grande bellezza, a una grande meraviglia, come puoi focalizzare il tuo sguardo nell'indice di un'unghia incarnita? Accorgiti della bellezza della tua esistenza, accorgiti della salute dei tuoi organi, di come l'energia fluisca in maniera quasi perfetta. Non lamentarti di piccole insoddisfazioni perché quelle piccole cose che hai sono quelle che ti portano costantemente all'attenzione verso di te e se non ci fossero forse perderesti un poco la rotta pensando di aver trovato la strada fatta di solitudine. E non è così. Sono le persone intorno a te ad arricchire la tua vita. Sono i loro cambiamenti di umore che fanno di te una signora forte ed elegante. Sono quello che sei tu, le tue esperienze e la tua esistenza è grata a tutto ciò che vivi. Sì lo anche tu e ritroverai quella serenità che in quei momenti che dici vivere frequentemente ti sembra sia persa. In realtà sta sempre a te scegliere su quale vibrazione muoverti.